Ispettore... ...ehh? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quanto sangue. Spero non sia il tuo fratello. Grazie a tutti. Armi da intimidazione? Come quelle che ho imparato a usare dai fratelli indiani? Grazie a tutti. La signora è in una bottiglia di birra per scrivere questa lettera, ma è diventato denso come colla e non posso usarlo. L'inchiostro rosso andrà bene, spero. I giornali hanno stampato la lettera tre giorni prima che Miss Stride e Miss Eddose fossero uccise. Era firmata Jack lo squartatore. L'ultima volta che io, Henry e Jacob eravamo insieme è stato in India. 15 anni fa, quando scattammo la fotografia, eravamo davanti al tempio di Calì. E questo è uno dei ragazzi che Jacob ha fatto addestrare con la confraternita. Come lo chiamavano? Il piccolo Jack. Inquieto e spavaldo. Proprio come mio fratello. Altri segni? Cos'è che non vedo? Calì, la distruttrice. Te l'ho regalata quando sei venuto in India. C'è una donna che potrebbe aiutarci. Sventuratamente. Ti ricorderà la nostra vicina da piccoli. Se lo squartatore... Sventuratamente. Che cosa vuoi dirmi, Jacob? Amavamo Nelly. Che si riferisca a una donna sventurata. Che Nelly si trovi al bordello vicino all'alloggio di Jacob. Inizierò da lì. Questa bomba seminerà il panico fra loro. Andiamo! Speriamo! Speriamo che quest'Anelli sappia dove sei e mi conduca allo squartatore. Se l'ex allievo di Jacob è lo squartatore, vuol dire che è uno di noi. Lo devo fermare. Speriamo! 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 Dove sono andati? Nellie è in grave pericolo. Ecco la carrozza. Nellie deve essere dentro l'edificio. Nellie è qui da qualche paura. Di certo è ben sorvegliata e in grave pericolo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.